Noi rimaniamo uniti ma ovviamente non accetteremo provocazioni da parte del Partito Democratico. Oggi Berlusconi è stato chiaro, ha fatto prevalere l'interesse del Paese alla stabilità e la volontà di continuare a credere in un Governo che faccia le grandi riforme strutturali. Continueremo su questo percorso ma vigili ad evitare incidenti di percorso perché non possiamo né intendiamo accettarli. Abbiamo oggi dimostrato grande responsabilità ma la nostra responsabilità non è indeterminata nel tempo. Grazie.